Big match dell'undicesima giornata del campionato di eccellenza Toscana mette di fronte Colligiana e Valentino Mazzola nel derby senese di alta classifica. I bianco-geresti tornano in questo stadio a otto giorni dalla bella vittoria contro la Castiglionese. La prima occasione però di un primo tempo praticamente dominata dalla Colligiana è per i bianco-rossi calcio di punizione che sorvola la traversa di Lunghi, palla che termina sul fondo. La Colligiana alla seconda occasione al 25esimo passa in vantaggio su errore difensivo di Gucci, Corcione si inserisce, il pallone arriva a Baccani che allarga dalla parte opposta dove c'è Carlotti che può ricevere e andare all'uno contro uno con Bonechi e la staffilata di destra di incrociare batte Fontanelli per il vantaggio della Colligiana a metà del primo tempo. Non sarà l'unica occasione di questa prima frazione per i bianco-rossi che due minuti dopo la rete del vantaggio Corcione non arriva la deviazione vicino all'area di rigore, il pallone che poi si spegne sul fondo, ancora Colligiana a minuto 35, un rimpallo favorisce Calamassi che prova con il lemmancino, la deviazione la palla sorvola di poco, la traversa e finisce in calcio d'angolo. L'unica occasione per il Mazzola arriva in chiusura di primo tempo, cross di Taflai, sponda di testa di Geraci che non trova compagni appostati a centro area, pronti per la deviazione vincente. Con le immagini passiamo dunque al secondo tempo che inizia con una clamorosa chance per la Colligiana. Baccani riceve una corte respinta da calcio d'angolo, scarica il mancino, Fontanelli tocca la palla sul palo, Gucci si rifugia in calcio d'angolo. Mazzola prova a scuotersi dai calci piazzati, Taflai cerca un pallone a centro area, Chiarugi in qualche modo riesce ad allontanare e palla difesa spazza. Ancora padroni di casa in avanti con il break di Calamassi che serve ancora Carlotti, il mancino palla che sfiora il palo, forse lo tocca appena e termina ancora una volta in fallo di fondo. Taflai ancora sul calcio piazzato, palla che anche in questo caso sfiora il palo anche se Chiarugi sembrava essere sulla traiettoria e poi sempre da un calcio di punizione e sempre Taflai questa volta mette al centro la difesa della Colligiana allontana in malo modo. Arriva a botte sicure a vecchiarelli, Papa Russo si immola e devia il pallone che poi viene prontamente allontanato. Colligiana vicinissima al raddoppio al minuto 73, calcio di punizione che pesca a centro area Mariani, colpo di testa, botte sicure a Fontanelli bravissimo a distendersi e a respingere la minaccia. Il duello tra l'estremo difensore ospite e gli avanti Biancorossi si rinnova tre minuti dopo, precisamente al minuto 76, ancora Corcione riesce a creare superiorità sulla sinistra, poi mette un pallone a rimorchio per la corrente Carlotti, a botte sicure anche in questa occasione e anche in questa occasione bravissimo Fontanelli con la manona a respingere. Gol sbagliato, gol subito come si dice in gergo il Mazzola a minuto 80 per bene al pareggio. Taflai sul secondo pallo per Borri che fa sponda per Geraci, un rimpallo, favorisce ancora il numero 11 Bianco Celeste che a tu per tu con Carucci non può sbagliare e deposita in porta il secondo gol in campionato. Mazzola che per bene dunque al pareggio nei minuti finali di partita, una partita complicata che però pare risolversi proprio in questa occasione perché a minuto 91 Mazzola alla ricerca del possibile colpo del K.O. Rimpallo favorisce Borri che serve Geraci che entra in area di rigore e forse si defila un po' troppo. Il suo tiro termina sull'esterno della rete dando anche l'illusione delle gol. Siamo già come detto nei minuti di recupero al quarto dei quattro segnalati dal direttore di gara da un rinvio di Fontanelli, la sponda di Borri si inserisce Geraci, Geraci entra in area di rigore, serve con il tacco Buamed che forse ci incisca un po' troppo con il pallone. Ancora Geraci cerca un compagno anziché provare a calciare in porta e l'azione sfuma. Non c'è più tempo per cercare il gol della vittoria al triplice fisco dell'arbitro. Finisce 1-1 il derby tra Colligiana e Valentino Mazzola, un punto che fa comodo a entrambe per continuare la marcia verso i piani alti della classifica. Grazie a tutti.